Dieci rate mensili da gennaio a ottobre da pagare a 2 a 2 nelle bollette bimestrali della luce. Il canone Rai si pagherà così. Nulla di ufficiale, si tratta per ora solo di anticipazioni sul decreto di attuazione della legge di stabilità, ma si incomincia a capire come funzionerà il nuovo sistema. Innanzitutto, come detto, l'importo sarà suddiviso in dieci rate mensili che saranno addebitate sulle bollette bimestrali emesse dalle imprese elettriche. Solo per quest'anno le prime sette rate saranno comprese nella prima fattura emessa dopo il primo luglio prossimo. L'intestazione del canone Rai seguirà l'intestazione della bolletta, ma nel caso in cui i due contratti fossero intestati a persone diverse della stessa famiglia anagrafica, l'Agenzia delle Entrate effettuerà d'ufficio la voltura del canone al titolare del contratto di energia elettrica. Se invece l'intestatario del canone Rai non è intestatario di un contratto di energia elettrica, dovrà pagare quanto dovuto in un unico versamento tramite bollettino entro il prossimo 31 ottobre. Inoltre, il pagamento del canone sarà imposto anche se il consumo di energia elettrica risultasse pari a zero, ma in nessun caso il mancato pagamento del canone comporterà l'interruzione della fornitura di energia elettrica. Il contribuente inadempiente avrà un anno di tempo per saldare il suo debito. Ancora da sciogliere il nodo del rimborso dei costi dell'operazione, con le imprese che chiedono che non gravino sulle tariffe elettriche, ma sui risparmi che arriveranno all'amministrazione.